Torniamo a parlare di Casino, ben trovato al pubblico di Imperia TV e ben trovato a Bruno Barbaro dello SNALC, benvenuto, il sindacato interno autonomo della Casa da Gioco, ne parliamo perché tra pochissimo venerdì ci sarà il famoso referendum tra i dipendenti della Casa da Gioco che si dovranno esprimere in merito all'accordo che è stato siglato recentemente tra il CDA e le sigle sindacali, non tutte per la verità, ma intanto Barbaro ripercorriamo un attimo questo accordo, cosa prevede, quali sono i punti fondanti che siete andati a mettere nero su bianco per risolvere questa situazione di crisi? Guardi, l'accordo nasce dopo l'incontro che abbiamo avuto in prefettura, nel corso del quale il prefetto ci ha detto con molta chiarezza che era necessario anche un intervento sul costo del lavoro, di riduzione del costo del lavoro, non c'era più la possibilità di tenere i costi gestionali del personale a quei livelli. E quindi noi abbiamo, ci ha detto anche con molta chiarezza del prefetto che quella operazione era necessaria per mettere in equilibrio i conti della Casinò SPA e portare il Casinò alla funzione per cui è nata, quella di dare benessere alla collettività e non prenderla dalla collettività. Quindi non un peso ma una risorsa. Non un peso ma una risorsa e noi siamo stati chiamati e ci ha detto chiaramente di non giocare con la pelle dei lavoratori, noi rappresentanti del sindacale, perché la pena era quella di interruzione dell'attività aziendale, perché mancanza di equilibrio non si può chiedere ai cittadini, noi siamo su questo, siamo d'accordo, che dobbiamo fare la nostra parte di sacrifici per far uscire dall'azienda la crisi e qui è iniziata una trattativa con la Casinò SPA e siamo riusciti a fare questo accordo. Ora, questo accordo nasce appunto per garantire la continuità aziendale e per assicurare i posti di lavoro, noi facciamo questi sacrifici per questa due, cioè la continuità aziendale e la continuità dei rapporti di lavoro. C'è un taglio di stipendi. Sì, certo, noi facciamo complessivamente sul costo del lavoro una riduzione di 5 milioni di 300 mila Euro, una parte dovuta al blocco del turnover rispetto a tutta una serie di razionalizzazioni interne alla politica del personale e poi facendo un taglio delle retribuzioni di circa 3 milioni di Euro. A scaglioni. Sì, a scaglioni, certo, e poi anche un risparmio incentivando le persone su base completamente diversa rispetto al vecchio accordo perché si incentivano le persone con somme inferiore, in maniera anche significativa e inferiore. L'incentivo all'esodo. L'insieme di queste politiche porterebbe ad avere un risparmio di 5 milioni e 300 mila Euro. Da parte nostra, come dipendenti, abbiamo agito sul trattamento di fine rapporto, non c'è un impatto immediato sulla retribuzione, ma sono sempre soldi dei dipendenti e poi mediamente diciamo che sul netto delle buste paghe ci andiamo a rimettere tutti media, ecco c'è quindi chi guadagna di più paga di più, di meno paga di meno, ma medio e sono intorno ai 200 Euro nette mensili, quindi un impegno consistente sulla retribuzione, tutte le retribuzioni negli ultimi tempi al casino sono diminuiti, notevolmente non abbiamo premio, sono diminuiti alle mance e quindi anche quest'ulteriore sacrificio chiaramente lo facciamo se passa il referendum, per mettere in sicurezza l'azienda e anche avere una prospettiva di più serenità. Tutto questo permetterebbe il mantenimento dei livelli occupazionali, perché si era parlato addirittura di un'ottantina di esuberi. Ma si è parlato, questo accordo prevede che il ridimensionamento della struttura organizzativa dell'organica aziendale deve essere fatto, ma attraverso politiche indolori, cioè attraverso incentivi all'esodo, attraverso la trasformazione del tempo pieno, a tempo di goccia persale, attraverso una serie di misure noi andiamo a ridurre l'impatto e il costo del lavoro, anche con interventi strutturali. Poi abbiamo visto il blocco del straordinario, il blocco del lavoro somministrato solo nei casi di estrema urgenza per garantire servizi fondamentali, abbiamo messo anche degli impegni, ci sono degli impegni sulla riorganizzazione aziendale, ci sono degli impegni sugli investimenti, sulle attività produttive, su una verifica trimestrale anche sugli altri costi dell'azienda. Noi abbiamo fatto un accordo dove ci sono le linee guida per arrivare entro giugno a fare un piano di emergenza condiviso tra l'azienda e le rappresentanze e i lavoratori, per mettere mano a quella che è la vera battaglia che è cercare di bloccare questa continua diminuzione degli introiti dei giochi, quindi noi dobbiamo avere un piano aziendale all'altezza del compito e poi bisogna introdurre anche elementi di cambiamento ai vertici aziendali, noi ci siamo dimenticati, noi facciamo l'accordo, abbiamo fatto questo accordo per fare un favore a qualcuno, noi abbiamo fatto questo accordo perché è una necessità aziendale, noi abbiamo guardato l'azienda, questo serve all'azienda, questo accordo, non ci interessano gli altri giochi, a noi interessa di cui c'è il problema di puntare che l'azienda stia in piedi, non la società, la società ormai i costi aziendali sono superiori ai ricavi e quindi bisogna riequilibrarli, producendo di più e spendendo di cui c'è meglio e meno. Anche come dirigenti? Ma guardi, quelle lì ormai c'è il direttore dei giochi che va via, l'altro dovrà andare via, io credo che all'interno del vertice aziendale sono necessari dei profondi cambiamenti, ripensamenti, anche i quadri, noi ci siamo dimenticati, noi per fare avere questo tavolo negoziale, noi siamo andati a fare in giro per la città, anche i sit-in, perché volevamo un piano di emergenza, c'è un piano di emergenza che mettesse in sicurezza l'azienda e che mettesse in sicurezza anche la nostra prospettiva lavorativa, quindi non abbiamo fatto queste manifestazioni, noi chiedevamo già e dichiaravamo quando facevamo queste manifestazioni che noi eravamo pronti a fare la nostra parte e noi siamo pronti a farlo, io sono un dipendente dalla Casino S.P.A., io lavoro all'interno, io ho firmato questo accordo, lo sostengo, lo difendo fino alla fine, ma non è che l'ho firmato per gli altri, anche io quando ho firmato sono consapevole esattamente che ho una decurtazione del mio stipendio, certo, rispetto agli sguasti che sono stati fatti, alle sprechi che ci sono stati in azienda, all'incapacità di questo management, è difficile far passare anche queste cose, certo che è difficile, ma non si può farne a meno, non è che possiamo dire, poi c'è anche all'interno dell'azienda chi pensa che i sacrifici, per fortuna, penso in pochi, ma ci sono anche questi che pensano che i sacrifici li devono fare sempre il vicino, cioè gli altri, capito? I sacrifici dobbiamo farli tutti, dobbiamo distribuirlo, l'equità è un concetto che va visto intorno ai numeri, però non è che si possono immediatamente sempre, lo devono fare i giovani, o gli anziani, alla fine l'azienda è unica, l'azienda è unica, addirittura, noi stiamo facendo una battaglia, ci siamo caratterizzati e continueremo a farlo per la continuità lavorativa anche dei dipendenti che lavorano nei servizi terziarizzati, quelli del bar, del ristorante, della pulizia, della vigile, noi vogliamo che questa comunità, è una comunità, e all'interno di una comunità di cui ci sono bisogno di tutelare tutti gli interessi e soprattutto la prospettiva del lavoro. Certo, dobbiamo andare ad un ridimensionamento della struttura organizzativa, non reggono più, questa azienda non può dare oggi, nelle condizioni in cui versa questa 450 dipendenza, questo dobbiamo arrivare però con dei processi indolori, facendo delle politiche, non ricorrendo allo strumento dei licenziamenti, noi questa parola licenziamenti non la vogliamo neanche sentire, ecco perché abbiamo fatto l'accordo. E di tutto questo saranno chiamati i dipendenti a destruirsi venerdì? Certo, saranno chiamati i dipendenti in un contesto dove anche le forze che hanno fatto l'accordo non lo sostengono, qui ci nascondiamo, c'è una timidezza anche da parte della Casino S.P.A., ha firmato con noi l'accordo, non ha fatto neanche un'intervista per spiegare le ragioni di questo accordo, ad oggi non c'è stato, sembra una posizione di timidezza che abbia la Casino S.P.A., non motiva neanche le politiche che ritiene necessario al tavolo che devono essere fatte, lo deve fare anche pubblicamente queste cose, non l'ha fatto. E le forze che hanno firmato, gli altri sindacati che hanno firmato l'accordo con noi, non hanno voluto neanche, alcune non hanno voluto che facessimo neanche un'assemblea assieme, per motivare i lavoratori, perché abbiamo fatto sto scritto a questo accordo. Ci sono rappresentanti sindacali che hanno firmato l'accordo e si stanno caratterizzando, dico perché stanno facendo una campagna contro, non so con quale coerenza, con quale concezione, mi è difficile anche, come dire, pensare che uno firma un accordo e il giorno dopo vai nei corridoi a convincere i lavoratori invece a votare contro, dico quell'accordo che ha firmato, dico questo c'è… Sempre molto strano il casino, come mondo. Certo, è molto strano, un mondo molto strano, è un mondo dove poi sono entrate delle forze che non me la sarei mai aspettato, questo perché è una… insomma, le forze di gucce politiche devono svolgere un ruolo, hanno un ruolo fondamentale, poi dispiace anche perché lo fa il PD, però il PD è entrato in questa di gucce partita in malo modo nella vicenda. Cosa è successo col PD? Beh, il PD ha detto chiaramente che questo accordo deve essere chiesto, di cui che venisse revocato, sta mettendo di traverso, dicendo che è insufficiente, vabbè, sufficiente, lo vedremo, spero di no, spero che passi e che dimostriamo in effetti che è sufficiente per tenere in equilibrio economico e finanziario la società, però è insufficiente, dico c'è, non si chiede la revoca. Perché lo deve chiedere la revoca? Perché? Perché ti mette, dico c'è, su una partita, squisitamente, dico c'è sindacale, capisco, è una forza politica, può intervenire sui temi… ma lì invece è sembrato, dico c'è quasi un sindacato in campo, un sindacato di opposizione, ma neanche un sindacato, una forza di opposizione, dico c'è che dice basta, questo accordo non si deve fare. Per farlo saltare. E per farlo saltare. E perché? Qual è l'alternativa? Cioè l'alternativa hanno detto, beh, bisogna farlo saltare perché noi dobbiamo, dal costo del lavoro, ridurlo di un terzo, 9 milioni di euro è un terzo, noi siamo a 27 milioni, il costo del personale è un terzo, così siamo a 5 milioni, cioè siamo vicini, ecco, non è che abbiamo fatto una… e quindi bisogna farlo saltare, dico c'è questo accordo, e allora nascono degli interrogativi su questa iniziativa. Sul perché si è stata portata avanti. Certo, è certo che nasce soprattutto il PD, ma poi la caratterizzazione del PD è più il capogruppo del Partito Democratico, questa… perché lo fa? In genere, però, detto, beh, si possono fare, ricordiamo ai contratti di solidarietà, recupereremo 9 milioni di contributi pubblici, non è così, non ci sono fondi, non ci sono risorse, però intanto hanno ingenerato questa aspettativa tra i lavoratori. Ma non è che come al solito ci siano interessi politici? Ma certo, certamente, una forza politica persegue anche gli interessi di cui c'è politici, chiaramente, non è, se ci luidiamo, che lo fanno perché… è anche una forza politica chiamata a dare a pronunciarsi sulla città, su quale futuro dare a questa casa da gioco, come si risana, certo che lo deve fare, si deve assumere anche delle responsabilità, però penso, dico, c'è che facendolo in questa maniera, di fatto, dico, c'è appunto a creare una situazione di emergenza. C'è già un'emergenza, però è una situazione di emergenza che senza l'apporto del Partito Democratico non si va da nessuna parte. Perché servirebbe un larghissimo consenso. Eh sì, chi mi sa tanto che stanno facendo un po' le prove del governissimo, fa giorni scala anche il tuo Consiglio di Amministrazione, c'è chi… Quindi dovrà essere rinnovato. Avrebbe piacere di ritornare, nonostante ha dato pessime prove di quel compito, il Partito Democratico aveva, nel 2008 aveva un piccolo componente del Consiglio di Amministrazione, no? E quindi questi giochi… E quindi potrebbe tornare, potrebbe essere questo il gioco. Io credo che non torna, io credo, c'è invece che questi giochi che si stanno facendo in questa maniera contribuiscono solo a portare l'azienda in un pantano, ad affossarla. Cioè non è il problema che anche il discorso, sì, licenziamenti, licenziamenti, di quella consistenza. Certo, non c'è l'equilibrio, qualcosa bisogna pur fare, non un accordino. Non lo facciamo oggi come qualcuno sostiene, ma andiamo via a casa a questo accordo, poi ci sediamo al tavolo e facciamo un altro migliore. Ma non è così, non funziona, cioè non funziona, non può essere, dico, c'è così. Cioè dopo questo accordo bisogna comunicarlo che se non passa… Eh, quali sono i rischi secondo voi? Eh, i rischi, dico, i rischi per me, dico, sono quella della debolezza, diciamo, di questa casino SPA, di non andare da nostra parte, cioè che si collassa, dico, c'è l'azienda nel giro di poco tempo. E quindi i rischi grossi, dico, c'è che noi torniamo, torniamo all'origine, quando il il Prefetto ci ha detto, guardate che così non si può andare, non si può scaricare sulla collettività i pesi di questa gestione, non reggerebbe, perché si parla di 10, 12, 14 milioni di deficit, ma dove andiamo? Cioè qui non è che non passa l'accordo, abbiamo trovato l'equilibrio economico-finanziale della società. Il giorno dopo dobbiamo mettere in mano qualcosa di molto più consistente, dico, per tenere in piede l'equilibrio. E quindi la strada di licenziamento è una strada che ci preoccupa, ma ci preoccupa ancora di più, cioè quella strada che viene interrotta l'attività lavorativa, cioè non si va neanche verso il fallimento, probabilmente si interrompe l'attività lavorativa. E noi abbiamo tutta una serie di segnali che arrivano, ma c'è stata chiara, chiarissima, ma chi non vuole ascoltare? Noi dicono che facciamo terrorismo, no, noi abbiamo ascoltato con grande preoccupazione, dico, c'è le parole che ha detto il prefetto, che sono parole reali, non perché ci ha spaventato, non ci spaventa nessuno, ma sono realistici quelle cose lì. Se non c'è l'equilibrio economico-finanziale non può essere scaricato sulla collettività e chi si fa carico di questa situazione? Noi dobbiamo farci carico, anche noi ci dobbiamo fare carico. E io, valutore, dico, c'è nel momento in cui questo accordo, la cosa è che passa l'accordo e noi andiamo a dire anche al prefetto, dicono, noi la nostra parte la stiamo facendo, adesso andiamo avanti con questo accordo e se sto dicendo, ah, non va bene, dico che se ne vada via, e ci manda la gestione commissariale, una cosa è fare questo, un'altra cosa è dire, noi rifiutiamo questo accordo perché non si capisce bene, poi chi ci risana la situazione, noi non lo vogliamo fare e di fatto poi siamo fuori gioco, noi non abbiamo voluto fare nessun sacrificio e adesso dico, c'è cos'è, non volete il sacrificio, non volete, allora qualcuno dovrà puffare questo sacrificio e saranno dolori, e saranno dolori, saranno dolori per l'azienda, saranno dolori per i lavoratori, per tutti noi, nessuno di noi ha la certezza, può avere la certezza che in un processo di licenziamento collettivo di quelle dimensioni è indenne, e dobbiamo farle questa considerazione oggi, non facciamo terrorismo, perché il terrorismo significa mettere la testa sotto la sabbia e dire che tutto va bene e i 14, 12, 14 milioni di squilibrio che ci sono, chi ci risana? Non avremo la capitalizzazione, perché non possiamo avere con un squilibrio del genere la capitalizzazione, una società che rimane con 120 mila Euro è una società che non riesce a garantire neanche il nostro TFR, siamo fortemente preoccupati, probabilmente vedo che anche questa politica del PD, da una parte dice rigore, poi dopo cerca di distribuire, dice ma no pagarebbero gli anziani, quelli che hanno maturato il diritto alla pensione, chi mettiamo, gli anziani, i giovani, io credo che vanno trovato soluzioni, io credo che ha lavorato tanto tempo all'interno dell'azienda, si rende perfettamente conto che delle condizioni, se c'è un incentivo lo prende, se c'è un incentivo minore ci fa un pensiero, ma credo che quella è la strada, non possono essere le strade che facciamo accordi sindacali, poi dobbiamo riportarle di cui c'è nuovamente, giustamente come ci siamo impegnati a un nuovo referendum, perché ogni accordo ormai deve passare attraverso un referendum, quindi ad ogni passaggio c'è un rischio anche di… Il tempo passa. Il tempo passa, il problema è che noi siamo in un pantano, stiamo andando verso un pantano. L'assessore Vesco, l'assessore regionale a lavoro, è intervenuto sul casino e ha parlato dei contratti di solidarietà, però è una strada che appare difficile almeno a quanto si è saputo a Roma. Ma guardi, l'assessore Vesco, spiegabilmente, l'assessore regionale che sta gestendo una partita di grande difficoltà, con poche risorse e tutta la cassa integrazione inderoga si gestisce a livello regionale. Non ci sono risorse, l'ha detto lui stesso, possiamo pagare fino a marzo, aprile, poi basta, è finito. È cercato di orientare a tutti, è andato sul fondo nazionale che sono i contratti di solidarietà, ma anche lì le risorse, erano 35 milioni e sono esaurite. È il grave dell'assessore regionale, positivo il fatto che dicono, anche il Presidente Burlando, la Regione Burlando dice, beh, insomma, noi della Regione siamo pronti, dicoci anche a vedere cosa possiamo fare, anche per il caso che noi saremo, questo è un fatto altamente positivo, noi dobbiamo tenere... Che si interessi, certo. Certo, certamente. Però il fatto di dire l'assessore di Gucevesco che è pronto a fare insieme a noi la parte del Ministero, qui va bene, ma poi Gucevesco ha detto, dicoci anche il contrario, è quell'accordo. Ecco, qui, francamente, questa ingerenza dell'assessore regionale, questo schiacciamento, cioè si è posizionato sulle stesse posizioni della Cigelle, è incomprensibile. L'assessore regionale non può fare affermazioni di questo tipo. Mi è fatto piacere che indirettamente c'era, dopo un po' di tempo, ma anche a Burlando, ha corretto questa impostazione. La Regione è disponibile a fare, aiutare il processo, non si inserisce, se non è chiamata non interviene, ecco, questo è rispettoso anche dell'autonomia, dell'azienda, delle parti sociali. Noi abbiamo realizzato di guce un accordo, quattro organizzazioni sindacali, un anno l'ha firmato, nella sua piena legittimità farà le battaglie, che riterrà opportuno di guce fare, ma noi che l'abbiamo firmato, insomma, l'unione industriale, ecco, i sindacati, l'azienda firmano un accordo, l'assessore vescovo ci dice che è contrario a quell'accordo. Come fa? Ecco, questa è la critica forte che noi abbiamo fatto. Questo però ha ingenerato all'interno dell'azienda anche tutta una serie di… che condiziona pesantemente anche i risultati elettorali di questo referendum. Certo che lo condiziona, come lo condiziona anche la politica del PD? Non è che si fanno le cose per fare? Stanno muovendo, si stanno impegnando quotidianamente anche a non far passare il PD, il PD, Gorlero, più che altro che il PD, Gorlero, c'è un po' la struttura, ma non far passare l'accordo. Ha parlato proprio di ingerenze. Ma sì, c'è un'ingerenza di cui c'è pesante su queste questioni. Poi adesso, ogni volta che magari… poi fanno degli interventi, come dire, legittimi, per carità mica che gli deve fare. Però abbiamo portato una professoressa che ha scritto un libro sugli ammortizzatori sociali a spiegare un pochettino questi meccanismi, è stata molto brava a farla, molto partecipata anche all'Assemblea. Il giorno dopo sono venute in tutta un'altra serie di attacchi. Capisco. Perché noi abbiamo il dovere, fino all'ultimo momento utile, a dire ai lavoratori a spiegare la nostra posizione. E noi ci teniamo a dirlo con molta chiarezza, a prescindere da come andrà, noi l'abbiamo firmato e lo sosteniamo questo accordo. Noi siamo un sindacato serio. Non è che ci impegniamo e non facciamo poi la nostra parte. Noi siamo consapevoli delle forze. Noi non siamo una forza maggioritaria. Noi siamo una forza che all'interno dell'azienda gode del 30% dei consensi tra i lavoratori. Non siamo una forza che ha… però questa forza di goce nostra, questo consenso nostro, i nostri, non solo i nostri, chi vuole venire alla nostra riunione sono sempre aperte. Noi spieghiamo il nostro punto di vista. Ci ragioniamo quotidianamente con i lavoratori. E sappiamo esattamente cosa ci dica un lavoratore. Quello che non ci va bene è questa strumentalizzazione di cui viene fatta continuamente. Questo fatto che ci storpiono le posizioni. Questo è una cosa che non va bene. Il resto ci sta. Perché le elementiere che fanno i lavoratori sono che noi siamo stati mal gestiti, che ci sono stati troppi sprechi. Perché ancora adesso ci sono sprechi all'interno dell'azienda. E quindi il fatto che ancora adesso non abbiamo un management capace. Non sappiamo cosa avverrà il primo maggio alla direzione giochi. Cercheranno un nuovo direttore, immagino. Spero che sia un bravo direttore. E siamo a metà aprile. Siamo fra 15 giorni. 14 giorni devono venire tante cose all'interno dell'azienda. Spero che ci siano anche dei… e lavoriamo in questo senso che ci siano anche dei grandi cambiamenti, ma che ci siano un inserimento di professionalità importante all'interno della nostra attività. Non che prendano uno che passa per strada perché così hanno fatto nell'ultimo periodo. Noi abbiamo avuto due anni, quasi due anni, un dirigente alle operazioni. Io francamente ancora non sono riuscito a vedere una operazione. Una operazione. Come si fa in una situazione come questa di una crisi? Non abbiamo gestito bene neanche l'online. Non abbiamo gestito bene nessun tipo di gioco. Non stiamo parlando di fare grandi risultati. Ma tenere una buona gestione organizzando bene le attività di gioco, promuovendo il gioco. Ebbè, insomma, 4-5 milioni in più, penso che riusciamo anche a farle. Quanto di tutti questi problemi ha colpa in generale e negli anni la politica? Beh, chiaramente, nella Casino S.P.A. Nella Casino S.P.A. Anche indirettamente, ovviamente. Tra i primi due anni, tre anni di Casino S.P.A., poi il resto, c'è stata una gestione influenzata pesantemente dalla politica. La politica, per carità, io ho fatto anche un'esperienza amministrativa, dico, c'è in quel periodo. Ricordo bene, ad esempio, la vicenda dei Porter nel 2006. Cioè, che ancora adesso sembra che ci sia l'interesse, dico, a capire cosa è successo. Io personalmente, dico, c'è denunciato più volte in Consiglio Comunale. Allora ho fatto anche delle interrogazioni, dico, c'è su queste cose. E non solo. E non solo. E quindi c'è stata una gestione, dico, sotto tutti i punti di vista. E fino a ieri si diceva che non si potevano sviluppare, non c'erano i progetti, non si potevano, non c'era nessun progetto. Tanto non c'era nessun progetto. Ma che poi non si potevano sviluppare i progetti perché il Comune non dava i soldi, si chiedevano 60 milioni di Euro al Comune, qualche anno fa. Non adesso, qualche anno fa. 60 milioni di Euro, 40 milioni, poi 25, cioè il numero all'otto. Il numero all'otto è debuttato lì, in quella maniera. No. E noi, il Casino aveva, ha delle possibilità, deve costruirsi le possibilità per farlo. Quindi dobbiamo fare affidamento sulle nostre forze, sui nostri sacrifici per uscire da questa situazione. Non possiamo sperare che siano gli altri a venire in soccorso di cui c'è il nostro. Noi dobbiamo farlo a noi questa parte. E quando parliamo noi, io non dico gli altri. Io parlo da me. Io sono un dipendente. E quindi anche a me farebbe piacere di cui ci portarmi a casa i miei 250 Euro di più al mese. Anche a me farebbe piacere di cui ci portarmi, sono un impiegato di gioco, quindi avere più mance. Ma senza politiche, senza... Però non posso dirci a pensare che me le devo portare a casa perché richieda la collettività. E io non assolutamente no. Assolutamente noi abbiamo detto sempre che non possiamo fare politiche che chiedono risorse ai cittadini di Sanremo. Abbiamo detto noi. Quindi dobbiamo essere un pochettino anche coerenti rispetto a questo. È vero che c'era una grande aspettativa, però è anche vero che noi oggi dobbiamo portare una politica che portiamo a casa alla pelle. Portiamo il lavoro a casa. Quando rimaniamo senza lavoro non c'è retribuzione. Quindi queste cose, cioè queste sono le cose che noi ci... E mettiamo tutto il nostro impegno, la nostra conoscenza, la nostra determinazione anche su questa base. Noi non abbiamo fatto accordi con nessuno, meno che mai sul piano personale, accordi con Zoccarato. Zoccarato è uno che ha tante responsabilità, sicuramente ha tante responsabilità. gestisce la città da quattro anni, quattro anni, ormai quattro anni, e queste dicoci a quattro anni, in un primo momento ha lasciato gli amministratori e doveva forse toglierle subito, che aveva nominato la precedente amministrazione, cioè Boria. E poi dicoci ha nominato gli amministratori all'interno che ha scelto questi dirigenti, che hanno fatto queste politiche nel futuro. Certo che ha delle forti responsabilità. Ha fatto anche una politica di mettere la città contro i lavoratori, anziché promuovere un sistema di coesione. Però bisogna dare gli atti che ultimamente Zoccarato, da quando ci siamo visti in prefettura ultimamente, è venuto anche al tavolo, ha fatto qualche intervento, ma ha segnalato la sua presenza, la presenza del sindaco. Il presidente del sindaco ha un tavolo di negoziare, in quella maniera per noi è un fatto positivo, non è mai un fatto negativo. Quindi, io non dico che ha fatto, vedremo cosa farà, però vedo una timidezza oggi di tutta la gestione della cassa dell'USPA, rispetto anche alle politiche che devono essere fatte in futuro. Non si può basare tutto su questo accordo, che abbiamo fatto questo accordo, che è un accordo, non salva l'azienda. L'azienda la salva se si mette in campo tutta una serie di politiche. E poi riparte, ovviamente. E noi dovremmo cercare di fare tutto il possibile per aumentare la produttività aziendale, o meglio, fermare questa continua diminuzione degli introiti, fermarla, attenuarla e poi fermarla. Abbassare i costi, levare gli sprechi. Abbassare i costi, e quindi cominciare a iniziare un percorso di tenere, riposizionare l'azienda sul mercato. Non è una cosa che si fa così. Cioè ritiene anche delle capacità. Rimuovere all'interno dell'azienda tutti quelli che sono gli ostacoli all'interno del gruppo dirigenziale. Cioè qui abbiamo, ormai l'azienda è affidata a 5 quadri, a 5-6 quadri, a 5-6 funzioni. È chiaro che queste cose vanno riviste, vanno riconsiderate. E non possiamo lasciare, hanno messo, e si vede, alcune cose si vede, qualche segnale, qualche segnale c'è, qualche osetta positiva, si comincia a vedere, ma è poco poco. Anche la presenza di persone che hanno una grande esperienza come è nata, devono essere ancora, diciamo, maggiormente, come dire, più dinamiche. Cioè devono, diciamo, far vedere qualcosa immediato di positivo che si sta cambiando. Qui c'è un poco. E in questo, diciamo, contesto, noi sosteniamo che è necessario fare la parte dei sacrifici. È chiaro che c'è un'opposizione anche a questo, dentro di noi. Perché non siamo, avessimo visto, vabbè, stiamo facendo uno sforzo tutti, facciamo uno sforzo anche a noi. No, non lo vediamo questo sforzo degli altri. Quindi noi dobbiamo dire, nonostante questo, non c'è lo sforzo degli altri, dobbiamo comunque dare l'esempio a noi. È difficile questa posizione. È difficile. E tutto, insomma, è contenuto in questo accordo. Abbiamo capito che questi siano giorni veramente importanti, decisivi, come ci siano tante dinamiche anche politiche. Vedremo allora venerdì come andrà questo referendum. Guardi, quello che mi preoccupa di più è questa, diciamo, mancanza di visione aziendale e anche mancanza di visione della politica. Perché io non ho visto, dico, c'è in questo la parte aziendale, vabbè, è un progetto, è una dinamicità. Vedo, sì, segnali, qualche segnale positivo c'è. Anche il Presidente dimostra, è un buon Presidente, è un buon professionista, sicuramente sì. Però un po' più di coraggio, anche nell'affrontare le questioni è necessario. È necessario farle, dico, c'è queste un po' di scelte, caratterizzarsi, motivare anche, spiegarle anche le cose che si fanno in azienda, anche all'opinione pubblica. Serve, dico, c'è una cosa del genere. Non serve, dico, c'è starsene, come dire, ma noi lavoriamo all'interno e non faccio interviste. No, serve anche a motivare le politiche che si fanno. Serve anche impegnarsi in questo, dire, vabbè, ce la possiamo anche fare. Andiamo in questa direzione, questo ce l'aspettiamo. Anche perché un referendum va spiegato. Ma vabbè, voglio dire, anche da parte, ma va spiegato, tra il referendum ci pensiamo noi, già facciamo parecchie cose. Ma insomma, la politica aziendale va spiegata quello che si fa. All'esterno, poi. All'esterno. Cioè, è un patrimonio della città. Voglio dire, no, deve farlo, dovrebbe farlo e non lo fa. E poi, dico, c'è però anche, manca sta visione, manca sto coraggio. E poi la politica ha un compito, il Consiglio Comunale ha un compito. E quindi, il dibattito che ci sono stati, dico, ma da un po' di tempo a questa parte, perché l'altro anno non è ultima, è una delusione continua. Il Partito Democratico, che aveva una grande occasione di caratterizzarsi in positivo, sta facendo una battaglia in negativo. Cioè, vedi, un Partito Democratico, io, oltretutto, ho simpatie. Qui invocano i licenziamenti. Ma Bersani andava sui tetti, appena sentiva licenziamenti, a dargli la solidarietà. Cioè, nel gruppo consigliare del Partito Democratico c'è che ha fermato l'accordo e che è contrario all'accordo e che è della revoca. Prevosto, che è segretario, mantiene le due cariche di consigliere comunale, anche qui un'anomalia, però il segretario provinciale ha fermato l'accordo e sono lo stesso gruppo con l'ereo che è della revoca. Cioè, queste sono segnali che vengono dati non positivi. In questo caso ha fatto bene provosto a fermare l'accordo, se lo sostiene. Poca unione del gruppo. Eh beh, insomma, però, dico, questo cosa significa? Cioè, che non si può essere... Anche tutta una serie di persone, dico, c'è che, insomma, girano nell'ambito del centro-sinistra, se la puntiamo in politica. Eh beh, anche queste, dico, condividono l'accordo. E allora, un partito politico, dico, deve avere anche una capacità di rappresentare un'idea che unifica, non che crea, dico, c'è già nel suo interno, dico, anche delle divisioni. Abbiamo bisogno di... Cioè, quando si parla di una emergenza, l'emergenza non si devono introdurre elementi di divisione ulteriore. L'emergenza significa che deve avere la capacità di un progetto che raggruppi, dico, c'è le forze. E invece qui, dico, c'è se punta, dico, c'è la divisione, se punta, dico, c'è a fare... a posizionarsi su cose che, francamente, non si va da nessuna parte in questa maniera. Quindi, il rischio che questa gestione, anziché avere una gestione imprenditoriale, manageriale, cioè, che punta a dire ad un programma di risanamento aziendale, è un programma di rilancio, di riposizionamento dell'azienda, possibilmente, dico, c'è il meno indolore possibile, chiamandoci a tutti a fare sacrifici. E qui ci stanno portando in un pantano. Cioè, dov'è la positività di questa questione, di queste cose che stanno mettendo in atto? Mica stanno facendo un discorso di visione, di prospettiva, di dire, vabbè, insomma, costruiamo, non abbiamo un governo di cui c'è dall'azienda che va in questa direzione. No, non c'è nulla di tutto questo. Questa è la preoccupazione. E la preoccupazione è che noi, se il referendum non passa, i dipendenti usciranno fuori dal gioco. Non potranno andare più in prefettura a dirgli, il caro prefetto si muova, anche lei. E il prefetto dice, cioè, si muova, si muova, dico, per prendere una misura ancora più dolorosa nei nostri confronti. Sì, perché dirà, a questo punto non ci siete riusciti. Cioè, voglio dire, ma noi l'abbiamo fatto, ci abbiamo messo tutta la volontà di cui c'è per farlo, però, insomma, è democrazia, anche nella democrazia sindacale e nella lavorativa, ma la democrazia è ingiustamente, e quindi dico, c'è però i lavoratori, il messaggio che noi diamo è che abbiamo rifiutato di fare sacrifici. E questo dico, c'è un messaggio brutto che passa, che la maggioranza, che poi comunque sarà sempre una maggioranza nel senso o nell'altro, la maggioranza ha rifiutato di sacrifici. E noi siamo, dico, c'è invece per farti carico di una parte, noi come sindacato, siamo su questa posizione. Lo rivendichiamo con forza il fatto che noi siamo andati con i fischetti per dire, dateci una politica, noi siamo pronti a fare la nostra parte, noi lo sosterremo questo accordo nel voto, lo sosterremo fino a... daremo indicazioni, cioè, noi siamo tutti impegnati, il nostro sindacato, io sono qui oggi, ma il nostro sindacato è impegnato tutto a parlare con i lavoratori, con tranquillità, con serenità, dire queste cose che noi, la nostra parte, dobbiamo farla, se vogliamo pensare di avere anche noi di cui c'è un futuro. Vedremo allora come andrà questo referendum, torneremo presto a parlare di Casinò, dunque, grazie per il momento a Bruno Barbaro dello Snack, che è stato nostro ospite, grazie a voi per l'ascolto.